Sono Eugenio Luigi Iorio, medico chirurgo, coordinatore del corso di specializzazione in medicina integrativa della Università UniUBE, Uberlandia, Stato di Minas Gerais in Brasile. Oggi abbiamo parlato della importanza della modulazione del sistema Redox, un sistema adattativo altamente conservato nel corso dell'evoluzione che consente di rispondere alle sfide della vita quotidiana attraverso lo scambio di elettroni. Il sistema Redox quindi gestisce fondamentalmente reazioni adattative di difesa e controlla via di segnale. Quando tutto funziona parliamo di eustress ossidativo, la risposta ha una sua finalità positiva e l'obiettivo è raggiunto, la sopravvivenza. Quando il sistema Redox è malfunzionante la condizione che viene generata è di distresso ossidativo. È molto importante il controllo del distresso ossidativo, non comunemente lo stesso ossidativo. In quest'ottica, Selfood rappresenta uno dei sistemi più avanzati per tenere sotto controllo, modulare positivamente il nostro sistema Redox e consentirci anche di una vita, possiamo dire, anche ben vissuta in termini di qualità e di durata.